buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di tg plus per quanto riguarda la pagina di venezia accoglienza diffusa che piace ai sindaci sia anche da destra fronte compatto nel veneziano da mira a sandonà fino a jesolo e distingo di ammelao a chioggia apriamo solo a chi ne ha diritto magari il sindaco di chioggia si potrebbe sentire negli approfondimenti grandi nei alberi caduti tempesta in riviera abbiamo visto che la grandina è un po colpito dappertutto anche qui e ha sfondato anche lunotti di auto insomma un disastro allucinante nella foto notizia si vede la torre jesolo le nuove torri simbolo web twin tower di 80 metri jesolo comincia a essere riconoscibile anche nelle varie foto che si vedono in giro per il web notizie di cronaca mestre violento violenze in pieno centro bar chiuso due settimane sicurezza ordine pubblico il comitato si farà a jesolo e chioggia andiamo a vedere anche il gazzettino il gazzettino invece parla ancora della tempesta e del maltempo i venti esplosivi così si è sfiorata un'altra vaia un effetto bomba provocato dal caldo può ripetersi a breve ormai il tempo è cambiato c'è poco da fare mafia mai più zone grigie questa è una notizia di carattere nazionale l'appello di mattarella meloni l'appoggio esterno non si tocca giustizia ok con la riforma nordio e nella foto notizia il caso contrario a monfalcone nessun problema jesolo e bibione il burkini divide le spiagge da nord est a vedere queste in mezzo alle altre dicono ma non so se ci piace vedremo cosa cosa si farà si parla ancora di migranti anche qui e poi c'è sotto vedete questa notizia qua il caso da venezia a treviso la rai è invisibile quindi non si vede la televisione paghi un canone per non vedere la televisione anche questo succede e lo posso confermare che in alcuni punti proprio non si vede mille nuovi migranti a settimana i prefetti stanno distribuendo in silenzio vertice conte possa mai no agli ab scrive il corriere del veneto in in prima pagina con la foto notizia della dell'ondata di calore e le tempeste che cominciano a diventare pericolose lo stato d'emergenza zai ha firmato danni milionari il downboss e i venti sparati verso i boschi bosco dello sport ripartono le gare il crack dell'azienda senza orari di lavoro sono un sognatore qui si parla ancora di lavoro e sindacati vediamo un po' anche la pagina di venezia sulla nostra notizie plus qui siamo ancora sulla pagina di treviso ci spostiamo dall'altra parte eccola qui l'incidente stradale sulla triestina al montiron e poi anche qui parliamo di nuova allerta gialla per forti temporali e anche della bufera sudoromiti dove trovate qui dentro anche il video di zaia che spiega le cose ma la notizia di jesolo lungomare delle stelle 2023 viene intitolato anche a tania cagnotto questa mercoledì 9 agosto ci sarà anche questa intitolazione se volete andare a conoscere tania cagnotto sarà certamente presente ma e poi potete andare a dare un'occhiata alle altre notizie scorrendo la pagina di notizie plus partendo naturalmente dalla parte centrale e poi potete trovare tutte le altre è tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti